e quella parte di vibrazione cerchio ifior attraverso tullia e gian domanda la cosiddetta aura fa parte dei veicoli o è un'irradiazione di energia georgei vi sono tante definizioni per quella che viene definita aura in pratica ogni gruppo ogni ambiente esoterico che parla di aura in fondo da sempre una prospettiva diversa per cercare di generalizzare il più possibile si potrebbe dire che laura è quella parte di vibrazione che collega il vostro corpo eterico con il corpo astrale e quindi principalmente è fatta da queste forme di vibrazioni astrali che appunto collegano tengono uniti i due corpi naturalmente poi vi sono anche le altre vibrazioni degli altri corpi ma generalmente chi osserva l'aura riesce principalmente a vedere proprio questo tipo di vibrazioni e quindi può arrivare a comprendere qualcosa del carattere della persona delle sue reazioni dei suoi modi di essere e anche indirettamente di ciò che ha fatto e di ciò che non ha fatto perché se uno riesce a leggere le emozioni del passato può anche arrivare per deduzione a comprendere ciò che hanno smosso queste emozioni ma qua è una cosa molto delicata perché voi dovete rendervi conto visto che parlavamo di ombre di illusioni che chi osserva in fondo proietta anche se stesso nell'osservazione e quindi resta sempre l'interpretazione di chi dice di osservare l'aura la quale è difficile che sia sempre veramente obiettiva per poter veramente interpretare l'aura di un'altra persona bisognerebbe riuscire a sganciarsi dalla propria realtà e vederla obiettivamente e questa certamente non è una cosa facile da fare